Diamo il benvenuto a Gianluigi Nuzzi, buonasera, giornalista, scrittore, conduttore di quarto grado su Rete4, benvenuto di martedì. Allora, perché l'abbiamo chiamato? Perché Gianluigi Nuzzi è esperto di misteri italiani e la vicenda di mafia capitale ne riporta parecchi al nostro orecchio e colpisce l'opinione pubblica sostanzialmente il contesto in cui si sviluppano i fatti di Roma. Iniziamo da quello che probabilmente è uno dei misteri che più inquietano tuttora l'opinione pubblica italiana la scomparsa di Emanuele Orlandi. Allora, ci ricordi chi era Emanuele Orlandi o chi è Emanuele Orlandi? Emanuele Orlandi è la figlia di un dipendente del Vaticano che un giorno si avvicina dove doveva andare a imparare musica cioè nella basica di Santa Polinare dove c'era la sua scuola di musica e sparisce. Ci sono stati 30 anni passa di inchieste che hanno portato esito pari a zero con una singolarità che ci riporta subito nel clima torbido di mafia capitale perché proprio lì dove lei studiava musica poi venne sepolto uno dei personaggi chiave della banda della Magliana cioè Renatino De Pedis che venne sepolto sotto la cripta a Santa Polinare. Che è il punto dove, l'ultimo punto dove è stata vista Emanuele Orlandi Esattamente, e poi ci furono dei telefonisti vicino alla banda della Magliana che facevano delle telefonate dando indicazioni. La mia idea Giovanni è che sulla scomparsa della povera Emanuele si sono giocate tante partite, tanti ricatti e che magari, ma questa è un'ipotesi investigativa, la banda della Magliana si è intervenuta non tanto nel sequestro della ragazza ma per fare ordine, fare pulizia purtroppo di un corpo che aveva una morte non attesa, imprevista e quindi mettere tutto in ordine. Allora abbiamo già individuato Emanuele Orlandi, banda della Magliana, ambienti del Vaticano, tre temi che torneranno nel nostro percorso. Anche perché, perdonami, era assolutamente improbabile e impensabile che un personaggio, comunque all'epoca chiacchierato, in odore di criminalità come De Pedis ammazzato di morte violenta, trovasse riposo il suo corpo sotto una... cioè vanno... solo i cardinali venivano lì... E proprio di questo parla Carminati in un'intercettazione che ha gli atti dell'inchiesta su Mafia Capitale in una telefonata che abbiamo ricostruito, te la facciamo sentire. La notizia è che dentro la tomba di Renatino ci hanno trovato proprio Renatino. Poi dice che adesso sfonderanno tutta la chiesa perché è piena di ossa. La verità è che di quella povera ragazzina non gliene frega niente a nessuno, hanno messo in piedi un altro tetrino. L'unica cosa che mi dispiace è per i genitori che non c'hanno nemmeno una tomba sulla quale pregare. C'è un fatto della carriera criminale di Carminati che interrogato dai giudici in quella che è stata una lunga vita confrontandosi con la giustizia si è sempre a balzo della facoltà di non rispondere. Ha parlato solo una volta e lo ha fatto per scagionare Renatino De Pedis sul sequestro di Emanuele Orlandi. Perché lo ha fatto e che rapporti c'erano tra i due? I due erano, da quanto emerge dalle carte, diciamo, avevano un rapporto molto stretto soprattutto sul gioco d'azzardo, almeno secondo l'ipotesi degli inquirenti. Ti do la mia valutazione. Secondo me Carminati scagiona De Pedis e prende parola nei processi per allontanare l'ipotesi di rapporti tra la banda del Managliana e il Vaticano. E poi per dire no, il mio amico De Pedis, con quel sequestro a fine di atti di libido, di libido, si presume, nulla centra, che è un reato anche nella malavita orrendo sequestrare una ragazzina per abusarne, no? Perché questa è l'ipotesi, diciamo, cui almeno tu dai... È l'ipotesi che oggi lavora la procura di Roma, il dottor Capaldo è ancora aperta all'inchiesta sulla scomparsa dell'Orlandi. Cioè sarebbe scomparsa perché? E sarebbe scomparsa per un ratto a fine di libido, ma c'è chi dice per partecipare a un festino, c'è chi dice che subì un approccio all'interno della Basilica. Ricordiamo che era frequentata, era molto frequentata, c'erano anche dei, come dire, dei ragazzi che erano fuoriusciti dalla chiesa, dei giovani sacerdoti che poi Don Vergari, l'allora rettore, recuperava. Ma anche qui... Questa è l'ipotesi su cui lavora al momento la procura di Roma. Sì, io parlai con il procuratore aggiunto Capaldo che conduce l'inchiesta l'anno scorso e lui nel 2013 ha contato sei tentativi di giudizio delle indagini. Quindi è un'inchiesta che ancora oggi dà fastidio. La banda della Magliana in questo mondo che descrivi sarebbe intervenuta per far piazza pulita delle prove che rimanevano di questo fatto. Carminati e la banda della Magliana che legami avrebbero avuto e avevano? Beh, storicamente basta sentire Cristiano Fioravanti, Aleandri, cioè i vari pentiti della banda della Magliana hanno sempre collegato i narri, i nuclei armati rivoluzionari uniti alla banda della Magliana. C'era uno scambio logistico, lo cambiano loro. Nella malavita non è prestarsi una penna come tra giornalisti, ma vuol dire prestarsi le armi, vuol dire avere gli stessi depositi, farsi dei favori, un furto, una rapina e poi magari fare anche delle operazioni un po' più serie e finanziarsi reciprocamente. Arriviamo all'omicidio Pecorelli, che non è certo l'unico mistero ancora da chiarire, che si intreccia con la vita di Carminati, ma è uno di quelli politicamente più pesanti. Chi era Pecorelli e cosa avrebbe fatto Carminati? Un giornalista che faceva inchieste? Un ricattatore? Mino Pecorelli, ecco lo vediamo nella foto, era l'uomo, il direttore di OP, di un giornale che faceva dei grandi scoop, legato in maniera ambigua a Licio Gelli, è stato ritenuto sempre un uomo che in realtà usava l'informazione come ricatto, come fabbrica del ricatto. E quindi è stato trovato morto, lo vediamo, è stato ucciso, l'ipotesi è che lui ovviamente avesse toccato delle corde di poteri che allora erano molto forti. Quindi non dimentichiamo che Pecorelli aveva una lista di cardinali in odore di massoneria, anche questo certamente diede fastidio. Non solo pubblicò i famosi assegni attribuiti a Giulio Andreotti, lo scandalo di Talcassa, insomma, sguazzava nelle pagine nere, ha fatto la peggior fine possibile. Andreotti è uscito assolto dal processo. Anche Carminati in qualche misura ne esce fuori e il nome suo come possibile omicida di Pecorelli viene fatto addirittura da uno dei tre stuperatori del Circeo, da Izzo, a dimostrare che quel mondo tra estremismo di destra, delinquenza, criminalità e politica, in qualche modo i servizi legati, erano molto uniti all'epoca, si intrecciavano. Torniamo allora a Carminati. Nasce come terrorista nero, ovviamente però viene tirato in ballo anche per un altro grande mistero italiano, la strage di Bologna. Cosa è la strage di Bologna? Per chi non lo sapesse, e che ruolo avrebbe svolto Carminati? Beh, la strage di Bologna è una delle pagine più tristi della storia recente del nostro paese. Nel 1980, all'inizio di agosto, esplose una bomba nella stazione di Bologna, nella sala d'aspetto di seconda classe, venne devastata la stazione e morirono più di 80 persone. Questa fu una pagina di vergogna a cui si aggiunsero molte altre di vergogna, soprattutto per i tentativi di depistaggio che vennono attuati per non far scoprire la verità. E di questo Carminati venne accusato, la storia è un po' lunga e diciamo in buona sintesi, venne accusato perché insieme ad altri, poi lui venne assolto, insieme ad altri avrebbero messo un mitra su un treno, sul Taranto Milano, per far portare le indagini verso una pista internazionale. Cioè non si voleva guardare in casa propria nella strategia della tensione, si voleva guardare fuori dai confini per una matrice internazionale che ovviamente avrebbe portato a nulla. Il problema Giovanni è che tutte queste inchieste per vent'anni hanno subito dei peggiori condizionamenti, dei peggiori depistaggi. I giudici di destra, di sinistra, altri bassi non c'entra. I giudici hanno fatto tutti una grande fatica perché lo Stato non li aiutava, lo Stato chiudeva loro le porte della verità. E per chiudere le porte della verità utilizzava due strutture esistenti sul territorio, la banda della Magliana e determinate forme di terrorismo di destra, è così? Beh, la banda della Magliana ha costituito secondo me in buona sintesi come il triangolo delle Bermude. Cioè all'uopo. Quando qualcuno aveva un problema chiamava quelli della terra di mezzo, come Carminati dice con efficacia. Perché quelli della terra di mezzo ti risolvono il problema, fanno una pulizia, ti possono togliere una persona, possono mettere a tacere una persona magari ricattandola. Ecco, la banda della Magliana, vedete, rispetto alle altre, perché ha avuto tanta forza, ma non solo per la violenza, come abbiamo visto in tante fiction, ma soprattutto perché aveva le maniglie giuste nel mondo con i magistrati, infatti ci furono delle assoluzioni, ci furono giudici arrestati, con la polizia, con le perizie uscivano tutti matti, con i servizi segreti ci sono persone, personaggi della banda Magliana, che poi sono spariti, sono andati in Africa, inseguiti e hanno fatto delle latidanze d'oro. Il problema di Carminati eventualmente sarebbe stata quella quindi di tenere aperto questo mondo di mezzo attraverso gli anni e di farlo valere ancora ora con tutti gli altri metodi. Ma ti riporto indietro, c'è una telefonata che Carminati fa agli atti dell'inchiesta che riguarda addirittura Ustica. È un passaggio brevissimo, ascoltiamolo. Se fosse uscito che Ustica era uno degli americani, sarebbe stata la guerra civile. Allora, Ustica, cosa succede? Ustica, siamo sempre nell'estate del 1980, un aereo, un 19-19, tavia viene centrato probabilmente da un missile. L'ipotesi più accreditata è che si trattasse di un missile sparato da un MiG francese, ma anche su cui ci sono state morti sospette, depistaggie. Allora, attribuire questa... All'inizio nei comunicati ufficiali si parlava di cedimento strutturale dell'aereo addirittura, no? Esattamente, ma di balle ce ne hanno date... E la pervicacia di giornalisti e di magistrati ha portato alla luce a me. Uno per tutti, ti ricordiamo, Andrea Purgatori, che sicuramente ha dedicato la sua vita a scoprire questa verità. C'è un bellissimo film, il muro di gomma, per chi vuole riassumere la ricerca. In buona sostanza, questa io credo che sia una inquietante butade. Una butade perché magari lui l'ha letto su qualche giornale, la pista americana si è ipotizzata a lungo sui giornali. Inquietante perché? Perché è il sistema di questi soggetti, è il sistema dell'allusione, è il sistema di raccogliere informazioni, come quando proprio qui a Roma non lo svuotate le cassette di sicurezza del Tribunale di Roma per trovare documenti riservati, proprio per alimentare quella fabbrica del ricatto. Cioè lui fa vedere all'interlocutore che sa persino di ustica. Quindi quello dice, beh, se questo è uno che sa di quello, figurati di me cosa può sapere. È una chiave che già la banda della Magliana aveva messo. Ma è una... c'era Gerardo Colombo, che sicuramente non è un magistrato a me vicino, ma questo importa poco, e lui parlava in un'intervista su Corriere del 92-93 e parlava della società del ricatto, definendo così il nostro paese. Il Vaticano. C'è una vicenda che ci riporta al Vaticano e che sempre nasce in questi ambienti, in questi contesti. La morte del banchiere Roberto Calvi, che aveva creato un ricco giro d'affari grazie all'appoggio dello IOR. Ed è di nuovo un nome che torna in questi giorni. Ci dici cosa è successo a Calvi, chi era e cos'è lo IOR? Allora, in buona sostanza, Calvi strinse con Paul Casime Marcinicus, il presidente all'epoca dello IOR, istituto opere di religione, l'unica piccola banca, piccola poi che c'è all'interno del Vaticano, amministra circa 5 miliardi di euro di depositi. Presidente Marcinicus, questo uomo grosso, alto, robusto, con il sigaro in bocca, e gioca a golf, che non fa il mistero di avere vita, diciamo, laica. Vivace, diciamo così. Mondana, direbbe Papa Bergoglio. Bene, praticamente quest'asse Calvi, Bancombrosiano, da una parte e Marcinicus dall'altra, fa muovere molti soldi. I vari processi hanno dimostrato che c'erano anche molti soldi della mafia, di Cosa Nostra. Viene ritrovato, dopo un viaggio burrascoso, viene ritrovato sotto il ponte dei Fratelli Neri, questo, il banchiere, siamo nell'82-83, adesso non ricordo perfettamente la data, viene comunque ritrovato, impiccato. Per tanti anni ci hanno parlato di suicidio, ma era una grande balla, anche qui questo uomo è stato ucciso. Ci sono state molte inchieste che non hanno sortito nulla, e tutti i vari personaggi della banda della Magliana, Pippo Calò, tutti i vari Flavio Carboni, tutti i vari personaggi che si sono via via stati indagati, alcuni anche processati, sono stati tutti prosciolti. Che non si fosse suicidato si poteva capire subito. Chi ha risumato il catalogo che io ho contattato mi ha detto ma sai, noi quando abbiamo visto il corpo di Calvi aveva tutte le unghie perfettamente limate come se fosse uscito dalla manicure. E quando mai un banchiere con queste unghie poteva invece affannosamente arrampicarsi lungo le rive del Tamigi, buttare una corda sulle impaccature sotto il ponte dei Fratelli Neri, mettersi dei mattoni nelle tasche, come vennero poi ritrovati, nelle tasche del banchiere e con un doppio carpiato uccidersi. Alcuni hanno detto è stata la mafia, io non credo che sia stata la mafia perché doveva dei soldi alla mafia, io non credo che la cosa nostra uccida un debitore. Prima in cassa, poi si rivede. Io credo che invece Roberto Calvi fosse custode di tanti troppi segreti. I soldi della mafia, Ernesto Diotalevi che in questi giorni è di nuovo sui giornali per Mafia Capitale, chi è e che ruolo svolge nella banda della maglietta e oggi? Ernesto Diotalevi è stato un uomo molto fortunato, credo, nella sua vita, nel senso che faceva parte di quell'area di riciclatori della banda magliana, parlo degli anni 90, che poi via via è uscito con pochi graffi dalle varie situazioni. Adesso però si sono rotte, non so se si sono rotte degli equilibri, credo che però Pignatone e Pristipino stiano facendo un'azione, andando dentro nelle viscere di questa banda e andando a trovare vecchie leve, tipo Carminati, che hanno dei punti formidabili di liaison con i politici, con i nostri burocrati. Siamo ritornati con una macchina del tempo negli anni 80. In conclusione, cosa ti aspetti che possa uscire fuori e cosa ti aspetti che possiamo ancora scoprire su questo mondo di mezzo? Io spero fortemente che vengano, che si... Adesso abbiamo mangiato gli antipasti, pietanze poco appetibili, cioè abbiamo visto gli appalti per i centri degli immigrati, anche cose che sono pugni nello stomaco, perché speculare su questi lascio a voi il giudizio. Però siamo sui piccioli. Falcone diceva seguite sempre i piccioli per trovare la verità. Ecco, andiamo sugli appalti un po' più sostanziosi, perché sicuramente abbiamo di fronte delle persone che hanno dei profili criminali che sicuramente con i piccioli ci giocavano la sera. Gianluigi Nuzzi, grazie di essere stato con noi. Grazie a te. Bocca al lupo per il tuo lavoro. Avevo.